a facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente. No, non sono soddisfatta, sottosegretario. Le leggo perché probabilmente nell'accorpamento ha dimenticato, ecco, effettivamente le richieste che io facevo, quindi gliele rileggo. Io chiedevo quali iniziative, per quanto di competenza, di sua competenza, saranno intraprese dal Governo per l'attuazione di quegli aumenti di organico, di magistratura e di cancelleria che lo stesso Ministro della Giustizia considera necessari. Ora, la risposta, da quello che ho capito, è stata dalle province porteremo appunto personale direttamente nei vari tribunali. Ora, come risposta, io la reputo una non risposta, dato che con il caos che c'è stato dopo la farlocca abolizione delle province, che adesso si venga a dire, sì, ci saranno, un tot di organico verrà preso dalle province per poi arrivare nell'organico del Tribunale, francamente mi lascia un po' basita come risposta. La seconda domanda che io le ponevo era quali iniziative intreprenderà il Ministro interrogato e quale sarà la tempistica necessaria? Ora, lei ha risposto fondamentalmente che è nell'agenda del Ministro. Ora, non è una risposta, cioè si rende conto che non è una risposta a dire, è nell'agenda del Ministro, quindi vedremo, valuteremo. Poi, le dico, mi fa sorridere il fatto che lei parli di grossa cooperazione della Regione Emilia-Romagna. Non è grossa cooperazione, la Regione Emilia-Romagna ci ha messo i soldi. La Regione Emilia-Romagna ci ha messo prima 748 mila euro per Bologna e adesso, proprio di stamattina, leggevo 450 mila euro per Reggio Emilia. Quindi non è che c'è stata cooperazione. La Regione Emilia-Romagna si è presa, si è accollata all'onere e voi avete ringraziato per questa grossa cooperazione. Ma io presumo che per un processo di queste dimensioni, ma il Ministro di Giustizia non è che può soltanto dire che la Regione Emilia-Romagna abbiamo avuto una grande cooperazione. Probabilmente il Ministero di Giustizia e della Giustizia ha anche degli altri oneri, ma sembra che qua non ci sia stato. Anzi, non c'è stato. Ora, io non so se in qualche modo vi rendete conto di quello che sta accadendo in una Regione che ha sempre cercato e si è sempre vista come una Regione e dei cittadini che avessero degli anticorpi. Ma in Emilia-Romagna, purtroppo, io lo dico da reggiana, non è più così. In Emilia-Romagna e nella mia città sono accaduti dei fatti che sono gravissimi. Viene cito alcuni. Due giorni fa Enrico Bini, che è un sindaco del Partito Democratico di Castelnuovo-Monti, e altri due sindaci si dimettono dal comitato trasparenza di IREN-SPA, dichiarando che poco o nulla è cambiato sulla trasparenza per gli appalti. Tutto bene? Noi siamo stati tutta la notte, sabato scorso, a Reggio Emilia, al Movimento 5 Stelle, eravamo sette parlamentari, quattro consiglieri regionali e tutti consiglieri. Ieri di Reggio Emilia siamo stati tutta la notte perché chiedevamo luce sugli appalti. Questa richiesta di luce sugli appalti degli ultimi vent'anni ha una motivazione. Nelle intercettazioni di Emilia, le ricordo giusto un qualche spunto di quello che sta succedendo nella mia città. Nelle intercettazioni di Emilia ci sono parole shock come con l'Agac pilotavamo tutte le gare di un arrestato, adducendo che almeno fino al 2010, quando la multiutility aveva ancora il baricentro a Reggio, si pelotavano le gare su rifiuti. In Emilia è stato arrestato un poliziotto autista del questore, Domenico Mesiano, che durante le primarie PD 2014 avrebbe fatto pressioni sulla comunità albanese per spingerli a non votare l'ex assessore Franco Corradini. A maggio 2014, in un seggio su iniziativa di Alessandra Guatteri, la consigliera del Movimento 5 Stelle, allora rappresentante di lista, fu denunciato per brogli elettorali Pietro Drammis, che era il primo dei non eletti in IDV nel 2009, che appoggiava la lista del Partito Democratico, oggi rinviato a giudizio a favore dei consiglieri PD, Scarpino e Rivetti. Gli stessi Scarpino e Rivetti il 23 febbraio 2015 abbracciano l'imputato Giuseppe Pagliani, Forza Italia, al suo rientro in consiglio. Pagliani è un imputato. Quindi ci sono stati due consiglieri che l'hanno abbracciato in consiglio. Chiaramente è tutto legale, però si capisce l'immagine che viene data all'esterno, che messaggio viene dato all'esterno. Il 12 ottobre 2012, l'allora consigliere comunale Antonio Olivo del Partito Democratico, con un'intervista sulla Gazzetta di Reggio, si mise pubblicamente a disposizione di Gianluigi Sarcone, allora colpito da interdittive antimafia e già coinvolto in inchieste. Nel 2015 sarà arrestato in Emilia. Lo stesso Limor, con Scarpino, concludo, Presidente, concludo. Questo per dire che ci sono dei fatti assolutamente gravissimi, è una cosa che francamente non capisco, è quando il Partito Democratico dice che va tutto bene. Allora mi chiedo se a Reggio Emilia, chi ha amministrato a Reggio Emilia negli ultimi anni, negli ultimi 60 anni? I marziani? Grazie del deputato Fiorio, avverto che...